Ma a voi piace scava coi picconi le cose colorate? No, ve lo chiedo così. Oppure preferite andare in giro, da fuoco a un bacarozzo e scava coi picconi delle altre cose colorate, anche se ogni tanto rimanete buggati nel cielo delle grotte perché non siete tanto capaci a giocare. Gli altri vi fregano le robe colorate da scavare? Oppure semplicemente preferite scavare con dei trapanoni giganti e andando cavolo vi pare perché niente vi può fermare siete degli spiriti liberi che amano la libertà e la decenza del mondo e cercate la pace tra tutti gli esseri. O semplicemente volete solo scavare in santa pace dell'oro perché oro vale lavoro, che bello l'oro, molto divertente. Comunque questo qua è di Proc Galactic, un giochino di nani che scavano proprio come quelli di Biancaneve, cioè letteralmente sono nani che scavano, depositano le cose in un carrellino e ammazzano dei bacarozzi. Niente di più, niente di meno ed è il mio gioco preferito a quanto pare. Ah sì, i bacarozzi ovviamente vi ammazzano, giusto per darvi questa simpatica notizia. Però questi sono i drammi del mestiere, succedono anche queste cose, ma non per questo noi smettiamo di divertirci. Comunque io continuerò a ritenerlo sempre uno dei giochi più belli perché poi vi potete alzare i vostri compagni di squadra che per la maggior parte delle volte su persone che voi non conoscete, non conoscerete mai e non saprete mai chi so, vi potranno dare una mano quando si ricorderanno come si gioca a questo gioco e sapranno che voi siete amichetti e vi devono salvare per riuscire a completare le missioni. Ma ovviamente che gioco di nani sarebbe se non è un gioco nel quale puoi customizzare il tuo personaggio con delle cose serissime come delle corna d'arena o una palla di Natale, un casco da motociclista una capoccia di mostro, degli occhiali da sole, un'altra capoccia di mostro, un cappellino, un cappellino, un visore una capoccia di, non lo so, una zucca, perché no, un altro elmo, un'altra capoccia di palla di neve è incredibile quante cose abbiano messo su sto gioco, perché c'è un battle pass che è gratuito ed è molto divertente da fare, un gioco ottimo da giocare con degli amici o come faccio io con degli sconosciuti online, oppure da solo ma va bene, noi siamo contenti lo stesso, perché puoi costruire dei tubi puoi mettere dei tubi, potete costruire dei tubi? ecco qua, lo potete fare, una volta che l'avete fatto, potete continuare a costruire dei tubi facendoli allungare, fate i tubi, questo, questo fanno i tubi, non è oppure, oppure, potete surfare sui tubi, una volta che li avete costruiti vi ci mettete sopra e con un bel carrellino andate proprio dove vi pare in realtà non andrete dove vi pare, però, eh, non è divertente la vita da miniera? non v'ho già convinti? no, eh, nemmeno a me ma vi dirò di più, potete costruire dei tubi quando tutti i bagarozzi del pianeta sul quale state a costruire i tubi si incavolano come le bestie e mentre voi state nella calma della vostra caverna con quei tizi che non mi ricordo manco chi so inizieranno ad arrivare peggio bagarozzi da tutti i buchi nei muri compresi i vostri e vi inizieranno a mozzicare sia a voi, sia ai tubi che a tutto quello che ci capita a tiro perché diciamocelo, sono dei bagarozzi che vivono in una grotta su un pianeta che è tutto un buco non ci vedono, non sanno a che mozzicano però guardate, ci avrete a disposizione un botto di cose per levarli di mezzo il piccone, in questo caso un lanciamissili un lanciafiamme delle vistuole e potrete tornare in base a ricostruire i vostri tubi mentre la musica sotto si scalda e diventa ultra potente perché ti dice proprio occhio stanno i bagarozzi e tu fai sì, devo combattere i bagarozzi perché questo è il mio destino e mentre il resto della tua squadra fa qualcosa di utile tu provi ad ammazzare i bagarozzini nella distanza ma che succede? oh no! è proprio come pensavi ne arrivano degli altri perché di bagarozzi sono tanti è proprio come la vita vera ci stanno tantissimi bagarozzi non potete farci a niente se non spararci dei razzi proprio come la vita vera cioè non credo voi facciate così nella vita vera e spero per voi di no perché? perché bagarozzi della vita vera non vi vanno a distrugge i tubi della raffineria che poi dovrete andare a trovare mentre spillano no? mentre zampillano e lì dovrete riaggiustare mentre stanno altri bagarozzi già pronti a mozzicarvi bagarozzi corazzati bagarozzi non corazzati bagarozzi semplici bagarozzi difficili ah ovviamente tutto questo andrà di fatto sempre e per sempre e di continuo perché questa è la vita dei minatori su questo pianeta come potrete vedere ci starà molto da aggiustare i tubi da fare i bagarozzi da saltellare da prendere delle munizioni perché li finiscono da picconare la sabbia da ammazzare gli altri bagarozzi perché è sempre così che va avanti i bagarozzi stanno sempre dietro l'angolo loro escono di continuo poi il tubo si rompe devi aggiustare il tubo perché se non aggiusti il tubo poi non puoi tornare a casa ma il tubo va aggiustato perché ovviamente non è solo questo il tipo di missione che ci sta disponibile su sto giochino perdonatemi ma quando l'ho registrato mi sono capitate solo queste io non eh io voglio far gentile però mi capitano queste le altre che ho registrato mi si sono corrotte perché una mi è andata via la corrente uno mi mi è zompato tutto uno ci ha provato quindi vi tenete i tubi poi vedi potete entrare nella cosa che vi porta a casa grida primo come fate tutti voi nei commenti primo 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 ebbene andate finalmente a casa quando tutti i vostri simpatici colleghi magari si decideranno di entrare ma invece no perché voi starete lì ad aspettare voi direte si io ho sede devo andare a bere ma i vostri cari amichetti staranno si aspetta fammi ammazzare sti altri bagarozzi che non serve a niente ammazzare perché io mi diverto così ecco sto qua fuori si sparo sti bagarozzi tanto non è che la gente c'ha altro da fare no io resto qua sparo i miei bagarozzi con tutta la calma del mondo mentre tu ti puoi scaccola 56.000 volte loro resteranno là fuori fino a che non ti dici senti brigate entrate qua dentro che io devo andare non lo so a fare la spesa devo fare qualcosa però vi prego entrate e loro non entrano perché devono continuare ammazzare i bagarozzi poi gridate come va beh per dieci minuti mentre venendo andate a casa e finalmente ah c'è scritto che la missione è completa ma ovviamente ci potete portare anche degli amici su questo gioco no raga ma esatto oddio non va si non va sicuro niente perché è questo quello che succede Stefano che si lancia di sotto dove dobbiamo andare dove si perde ma sapete che muore perché non so dove muore non vedo niente perché non ci vede raga Stefano che si perde di nuovo nei buchi non mi fa scavare più oddio ci sono i rancani quando tu vorresti semplicemente stare là per conto tuo a scavare il tuo simpatico oro ma non puoi non puoi perché ci sta sempre un dramma di sottofondo succede sempre qualcosa come potrebbe succedere che devi combattere contro degli altri bagarozzi ma tu preferisci fa i fatti tuoi e prende le batterie da ficcare in una scatoletta perché tu vuoi le skin delle armi e non ti interessa nient'altro quindi il tuo unico obiettivo sarà di infilare le batterie dentro quella dannata scatoletta e di prenderti la tua skin e non ti interessa quello che stanno a fare i tuoi colleghi se stanno a strillare se rischiano la vita perché i bagarozzi se li stanno a mangiare no tu vuoi solo mettere la batteria ammazzare un buon bagarozzo che è troppo vicino però appena vedi che ci sta a provare un altro lasci fare ti metti a tiramartellate come un pazzo alla scatoletta perché va giustata e poi finalmente ti potrai prendere la tua simpatica skin che è una skin per un'arma che nemmeno usi ma non ti frega perché è una skin le skin ne so belle e poi finalmente gli altri decidono di iniziare la missione quando tu vuoi solo continuare a scavare dell'oro perché hai capito che nella vita non c'è altro senso certo se lo potessi scavare veramente tutto st'oro ma non stare qua però puoi fare amicizia con il robottino guarda come ti saluta il robottino che ha che era le situazioni mentre tu torni a da fuoco a orde e orde di scarafaggini perché loro devono stare sempre in mezzo devono da sempre in piccio ma oramai è così fino a che gli amichetti non decidono che è ora ad attivare il boss finale che è un capoccione triangolare pieno di robot che devi combattere semplicemente ma tu sai che le tue armi fanno schifo perché c'hai un lanciafiamme e una pistolina e quello è un capoccione metallico quindi che ci fai con il lanciafiamme che nemmeno ci arriva quindi già sai che starei là cercherai ad aiutare un po' con i tuoi trapanoni gli amichetti ma sai che non farai niente di che ti metti fai vedere un po' che spari fuoco così ogni tanto ma giusto per divertirti un po' per fare qualcosa per tenere impegnata la mente guarda con la pistolina fai finta di star a giocare saltelli zombie di qua zombie di là ecco qua spari un po' ovviamente zombie significa saltare in dialetto sapete una cosa nuova ecco qua un braccio meccanico ti si para addosso ma a te non frega manco di quello tanto devono giocare gli amichetti tuoi li rianimi perché comunque tu non stai a fare letteralmente niente e sai che sto combattimento durerà ore e probabilmente fallirà perché non sai se gli altri saranno capaci fino a che non dovrai sparare l'occhione del coso metallico con le tue armi non ci fai niente perché non seriamente non ci provà vabbè ce l'hai fatta bravo complimenti tanto continuerai a farlo altre mille volte perché non puoi farne a meno però i tuoi compagni di squadra ci riescono e quindi tu che fai ti vai a fionda subito là fino ad una bellissima simpaticissima e fragorosa esplosione che ti spunta via da per tutto e continui a strillare come un babbeo con gli altri amichetti fino a che non vi rificcate là dentro non me ne andate e vi preparate ad un'altra sana giornata di miniera sì però miniera come miniera figa perché non in tutte le miniere anzi direi in nessuna miniera ci sta il matto col cappello a ovo di pasqua non ce l'avrete mai will non ce l'avrete non ce l'avrete a ovo Grazie a tutti.